ciao a tutti benvenuti o bentornati sul canale oggi sto registrando un video di sera ma adesso vi spiegherò anche perché allora un po di tempo fa avevo acquistato questa lampada frontale su amazon ma un prodotto da 10 euro niente di che ma sono rimasto stupito perché questo prodotto qua per costare così poco poca spesa tanta resa quindi adesso appunto vado a fare l'unboxing e poi più tardi farò un'uscita in esterna per far vedere quanto illumina questa lampada perché veramente mi ha stupito proprio c'è una modalità che la mette in massima potenza proprio illuminazione giorno quindi iniziamo con l'unboxing del prodotto e poi dopo ci vedremo per l'esterna all'interno della confezione potete trovare la lampada frontale con il cavetto che è praticamente come un cavetto per ricaricare lo smartphone però il modello vecchio non è il tipo c foglietto illustrativo e adesso andiamo a vedere la lampada a livello estetico è molto carina diciamo che non è proprio un peso piuma da portare sulla testa però è veramente un buon prodotto tecnologico adesso vi faccio vedere innanzitutto le batterie perché questa lampada è ricaricabile allora questa lampada ricaricabile è già fornita da quando l'acquistate di due batterie ricaricabili da 4200 mAh ciascuna una caratteristica tra l'altro che che non volevo dimenticarvi dire è che ha un piccolo led quindi praticamente quando ve la mettete in testa dietro si illuminerà rosso e anche lampeggiante così sia fisso che lampeggiante quindi è molto molto interessante questo prodotto e adesso vi faccio vedere un pochettino le funzioni di questa lampada perché come potete vedere ci sono 8 led e adesso vi spiegherò un po il funzionamento adesso la girerò verso il muro per non accecare me stesso ma anche voi che guardate il video perché veramente fa una bella luce sopra alla lampada ci sono due pulsantini uno a sinistra e l'altro a destra adesso andrò a schiacciare questo qui di sinistra per farvi vedere un pochettino che bella luce che fa qui si accendono le prime due centrali queste qua e già vedete che che luce che fa c'è una roba veramente spaventosa poi la si accendono le altre quattro così e poi così sono sei luci sei e poi fa anche la strobo c'è quindi c'è proprio per l'emergenza se uno ce l'avesse bisogno per andare a camminare in montagna a qualsiasi cosa che succede ma anche per chi abita in un villaggio secondo me è un ottimo prodotto adesso vi faccio vedere un'altra un'altra modalità per l'illuminazione quindi il tasto destro in alto qui si accendono quelle due in basso ah c'è tipo alta e bassa potenza e poi c'è anche la luce rossa c'è la luce rossa e poi lampeggia interrompo qua il video perché più tardi farò un'uscita in notturna per farvi vedere appunto la potenza di questa lampada andrò in un parco non lontano da casa e poi mi direte se il video vi piace e se il prodotto lo ritenete un prodotto utile interessante per l'escursionismo montagna ma anche per delle semplici camminate per chi abita in un villaggio così volete farvi una passeggiata perché comunque non è una lampada frontale normale di quelle piccoline che vengono anche da Decathlon che te le metti in testa e sono leggere questa è un pochettino pesantina perché comunque avete visto l'insieme quanti led poi dietro hai anche il vano batteria col filo eccetera eccetera però per la sicurezza secondo me questa lampada è un ottimo prodotto poi penso che sia anche valida per magari non so per gli amici e le amiche che magari fanno a parte l'escursionismo magari vanno a fare le arrampicate in montagna non so alpinismo o non so le vie ferrate o quelli che vanno magari nelle grotte così a visitare le grotte secondo me questa lampada è un ottimo prodotto e poi basta avere con voi un power bank la potete ricaricare con il cavetto quindi secondo me il prodotto è economico ma di qualità ma ne riparleremo dopo aver fatto il test in esterna per concludere il video a dopo eccomi qua sono uscito in esterna per farvi vedere un po' la luce che fa questa lampada frontale adesso giro la telecamerina e ve la metterò in bassa media e in alta potenza per farvi vedere un po' c'è una cosa impressionante cioè per un prodotto da 10 euro non mi aspettavo che facesse così tanta luce eccoci pronti con il test si parte allacciate le cinture questo lampeggiante eccoci qua la lampada tra l'altro è anche regolabile quindi potete regolare adesso la lascio così ecco questa qui è la bassa media e alta potenza cioè praticamente cioè guardate che luce che fa suono in un parco cioè guardate non so se rende l'idea c'è una roba allucinante puntiamo che non so sulle piante così ovviamente devo fare attenzione perché c'è la strada qua vicino se no abbaglio gli automobilisti questa è la modalità strobo cioè questa qui è la bassa potenza cioè quella normale via anzi questa è la base e questa è quella più potente adesso la spengo e quindi il video si conclude qui spero che vi sia piaciuto e che sia anche utile e di gradimento anche per gli amici escursionisti quindi se vi è piaciuto lasciatemi un bel like un commento iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto un salutone e ci vediamo con il prossimo video ciao